E allora questo è stato veramente il miglior rientro che avessi potuto mai desiderare e pensare perché è stato un rientro di condivisione con il comando di Polizia Municipale ma in generale con l'intera città. La Polizia Municipale è un corpo che per sua natura e per sua ontologia sta sempre in mezzo alla gente e questa festività di San Sebastiano ci consente di condividere con la città questa nostra divisa. Infatti io ho avuto modo di dire poco fa nella cerimonia ufficiale che la nostra non è una manifestazione ma vuole essere esclusivamente una condivisione, una condivisione con la città che ovviamente non possiamo ricevere nei nostri locali per motivi che comprenderete hanno solo carattere logistico. E allora per questa ragione riceviamo la città per il tramite delle autorità civili e militari. Detto questo voglio dire alla città che noi siamo a servizio della gente, non siamo per creare problemi o non siamo lì per determinare situazioni tali da creare, ripeto, problemi alla città. Vogliamo semplicemente essere a servizio della città e vogliamo semplicemente far sì che questa nostra divisa sia sempre più amata e rispettata dalla città.